Musica Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com Passate nel link in descrizione Salve a tutti ragazzi ben ritornati nel vostro giocatore Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 18 Con l'ultimo pack opening dei Footmas Ragazzi con la squadra settimana Con Aguero Messi, Kane, Pjanic e molti altri Siamo qua signori con i pacchetti speciali Sono gli ultimi pacchetti Più o meno gli ultimi pacchetti che hanno messo Ma io mi apro solo questi E questo sarà l'ultimo pack opening dei Footmas Sto preparando il mio account ragazzi Per quanto riguarda i Toti che usciranno Credo dall'otto in poi Quindi vediamo un attimino ragazzi Vi voglio tutti connessi Perché faremo parecchie live Tantissimi pack opening E spenderò tantissimi soldi Per trovare i Toti E speriamo un po' che andrà bene anche quest'anno Allora Abbiamo 5 pack da 100.000 E abbiamo 10 pack orrorari E 10 pack zinco prime Io inizierei con i pack orrorari ragazzi Tutti orror e tutti orrori Almeno ci rileviamo subitissimo Vediamo se ci dà qualcosa di buono Signori subitissimo Un bel like Mi raccomando Iniziamo con il primo pacchetto Potrebbe essere un primo walkout Vediamo un pochettino Ci dà uno spagnolo COC Ci dà un Ciao Mario Lo cazzo l'ho visto Un buon cavalero Ciao Mario Troche le troche proprio Andiamo con il secondo pacchetto Signori oggi vogliamo un'icona Nel pacchetto 100k Vogliamo un'icona Mi raccomando FIFA Datti da fare Secondo pacchetto Vediamo un attimino di nuovo Spagnolo Centrocampista Dell'Arsenal ci dà un Santi Cazorla 83 Ancora un altro pacchettino oro rari 12 oggetti Tutti oro e tutti rari E qui vogliamo un'icona Niente icona Niente IF Terzo pacchetto di fila Terzo Diciamo schermo Direzione centrale Della Juventus Mi potevi dare Potevi anche dare Un botengue nuovamente Invece come si dice Non c'è tre senza quattro Ma Adesso mi darai Un'icona Ragazzi Questa sarà un'icona Niente Però ci dà quattro Probabilmente Schermi Vediamo un pochettino Italiano Centrocampista No pensavo era un Verratti Un'altra volta invece Un buonaventura 83 Tutti 83 Mi sarà Secondo pacchettino Zinco Prime Dai FIFA L'ultimo pacchetto C'è l'ultimo pacco bring Dei Footmas Così ti voglio Voglio tutti i giocatori schermo Non me ne frega un caolo Italiano CDC Danielino De Rossi Buono ragazzi 83 Daniele De Rossi Ed eccolo qui Giocatore schermo Vediamo se ci dà un walkout Qualcosa di possente Dai Francese AS Ci dà Chi è questo Ah Pagli Vabbè dai Non è male ragazzi 84 Iniziamo a aumentare i nostri overall Forza FIFA Ti voglio carico L'ultimo pacco Zinco Prime Poi apriamo un pacco Da 100.000 crediti Ah Buono dai Forza Forza FIFA Pacca un po' Un attimo qui Pensavo era Coulibaly Invece è Matip Matip 83 Allora Abbiamo 5 pacchetti 5 pacchetti 5 pacchetti Quindi signori Ci apriamo un pacco Da 100k Incrociamo le dita Incrociamo il culo Pacca da 100k Forza Icona Icona Non è un'icona Non è una cacchio d'icona Ci dà un Giocatore schermo Potrebbe essere Che c'è che no Ci dà un'icona Vabbè Buono ragazzi Sanchez Sanchez 89 Sanchez Sanchez 89 Mamma mia Buono così Che fa il robottino Ragà Buono Sanchez Dai è così Facci trovare questi giocatori Che li dobbiamo vendere Tutti quanti E ci dobbiamo preparare Per i tori Porca miseria Dai il primo pacchetto 100k Non è male Continuiamo con questi Poi ragazzi I pacchi da 100k Me li apro tutti insieme Dai sti cauli Dai Ehi caravangula mamma Vai Forza FIFA Ti voglio Ancora Più carica La maronna Mi Te sei sbosciato Perché ti sono offeso Ho coperto il pacchetto da 100k Dai 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 Icona If Niente Proprio chi se ne fotte Ma dammi un bel maradona Un bel pelè Un Ronaldinho Ma guarda Mi accontento anche di un overmars Non è che mi fa schifo È un'icona Basta che è un'icona Ultimo pack Zinco Prime Signori anche questo sarà un giocatore schermo Me lo sento Proprio guarda O vedi O vedi che me lo sentivo O vedi che me lo sentivo E questo anche sarà buono FIFA anche questo sarà buono Me lo sento Francesino Difensore centrale Ci da Umtidi Eh vabbè dai 83 Non è male Dai su Dai Dai Concentrazione FIFA Con Si strunza Ah Guarda ragazzi Sta apposta Lo sta facendo apposta Perché adesso Nei pack Da 100k Mi dà Un'icona È che O mi dà messi Inf Eh vabbè Dai Dillo prima Se stai facendo questa cosa Per lasciarmi tutto quanto Nel pack Da 100k No O vedi Lo sta facendo Pallisemente apposta Per i pack Da 100k Ultimo pack Signori Ma tanto anche questo Sarà una cagata Perché poi ci sono Gli ultimi 4 pack Da 100k Ah madonna mia Tutti i ragazzi Non ha superato L'81 Regà L'82 Ma che schifo E vabbè Allora FIFA Ci devi deliziare Con gli ultimi pack Da 100mila Gli ultimi 4 signori Andiamo con il primo Ah cioè In realtà il secondo Ma con il primo di adesso Icona Non è un'icona Non è un'icona Però dammi un Neymar Un qualcosa Spagnolito Terzino destro Alla ci dai Un Carvajal Aveva un 84 Buono Ma nei pack Da 100mila Mi aspetto Dall'86 In su L'84 Non lo voglio più Adesso eh Nei pack Da 100k Mi aspetto più roba Anche se mi stai dando Alla fine Qualcosina di buono Guarda ci segniamo tutto Che i ragazzi I giocatori sono buoni Dai Forza Altro pack Ragazzi Il dato giro Il dato giro Forza Forza Non è un'icona Non è un if Sarà Ronaldo No Suarez 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 92 Questo sarà Todi Eh Sarà Todi Suarez Signori Suarez 92 Lo squaletto Porta Fortuna Vai così Suarez 92 Ce l'hai fatta A darmelo Ce l'hai fatta A darmelo Suarez 92 Mamma mia Signora Era il Fortuna Oh Lukaku Lukaku Aspiriqueta Guarda quanti Suarez Suarez Oddio Lukaku Anzi 70 Mila Ma Non Mia Ragazza Neve Buonissimo Aspiriqueta Mamma mia Ragazzi I pacchetti Questi sono Buonissimi Questi ci teniamo Mamma mia Raga Questo è un pacchetto Da 100.000 Porca miseria Vogliamo Ronaldo Vogliamo Un'icona Non lo so Unif Qualcosa Dai Mamma mia Che sua Ah Oddio Il Fabu Gomez Ho visto Argentino Vabbè che tanto Argentino Messi è così Provo Di darmi anche Un di bala Adesso sono Contentissimo Ultimo pacchetto Ragazzi Da 100.000 Ce lo andiamo A aprire tutti insieme Se ci dà l'icona Spacchiamo il mondo Se non ci dai un cazzo Non fa niente Ma ci darai Qualc'altro Volca Buono Dai Brasiliano Dimensione centrale Ed è buono Così Ed è buono Così Silvo 88 Ma è buono Così Regà Silvo 88 E dai Cavolo Dai Così Dopo Suarez 92 Luca 86 Aspili Queda Insieme Troviamo Silva 88 Ragazzi Ed è buono Così Ed è buonissimo Così Buono Mamma mia Mamma mia Mamma mia Buoni vesti qua Ci riteniamo tutti Che roba signori Ragazzi miei Mamma mia Che pacco pening Veramente micidiale Ultimo pacco pening Di questa squadra settimana Credo E comunque ultimo Copening Per quanto riguarda I foot mass Signori Che dire Io spero Questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel palacio In su Commentare Condividete Passate A facebook Instagram Trovate tutti I link In descrizione Ci vediamo Con un prossimo Appuntamento Ragazzi Troviamo Un pacchetto Incredibile 100.000 Con Suarez Lukaku Aspili Gueta Mamma mia Sanè Tantissima roba Tutta quanta insieme Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi